Le regole che devono seguire i ragazzi sono poche, semplici, ma servono, concordate con il nostro responsabile del settore giovanile Mario Beretta, servono perché vogliamo che i ragazzi crescano oltre che come atleti, come uomini. Vivere in foresteria non è facile, non è facile perché comunque sei fuori tutto il giorno, i ragazzi vanno via la mattina presto e tornano la sera, devono cenare e poi devono dedicarsi anche a quella che è la vita regolare di un adolescente. Cerchiamo di mettere i ragazzi nelle migliori condizioni in modo tale che possano ottemperarli e seguire quello che vuole la società. Noi prepariamo l'abbigliamento a tutti i ragazzi, soprattutto a quelli che stanno in foresteria, noi le prepariamo giornalmente per poi consegnarla quando vengono qui agli allenamenti. Il nostro obiettivo, seguendo poi i protocolli di riabilitazione, quindi i tempi che ci vengono dettati da questi, è cercare di rimandare in gruppo più velocemente possibile i ragazzi. Oltre al recupero degli infortuni, prima dell'allenamento i ragazzi vengono in palestra per fare dei lavori di attivazione, oppure in caso di carenze e necessità particolari fanno dei lavori specifici. I ragazzi della foresteria sono forse il gruppo più curioso che viene più spesso a fare domande, a chiedere consigli su come migliorare determinati aspetti e sono sempre qui presenti e molto interessati. È una società che sta lavorando, secondo me, ad alti livelli, sta lavorando da professionisti, da professionisti veri e in queste situazioni conta molto tutto lo staff, tutto lo staff degli allenatori, tutto il gruppo che appoggia a questo lavoro, tutte le persone che seguono la foresteria, le psicologi, tutti i dirigenti che comunque creano un ambiente che deve essere il più positivo possibile, il più formativo possibile. Nonostante tutto questi sono dei ragazzi e vanno formati. Noi abbiamo un duplice ruolo, non soltanto da allenatori per riuscire a fare dei risultati o insegnare calcio. Noi dobbiamo anche cercare di formare dei ragazzi che abbiano una linea di condotta, una linea di comportamento, una morale e un attaccamento alla maglia. Sono contentissimo di lavorare con questi ragazzi, anche per il percorso che si fa, per il percorso di crescita, il percorso di vedere i ragazzi che credono in un sogno, sacrificio, collaborazione e comunque ringraziare la società che ci crede in questi ragazzi. Noi come tutor didattiche facciamo in modo che i ragazzi abbiano tutte le sere un supporto per quanto riguarda i compiti a casa e quindi l'andamento scolastico. I ragazzi ogni sera salgono nelle aule studio e vengono aiutati e supportati da noi per quanto riguarda i compiti. Ritengo che quest'anno sia stato fatto un buon lavoro e si siano comunque raggiunti dei buoni risultati. Inizialmente è stata dura perché era difficile anche per loro gestire il tempo in quanto erano ovviamente stanchi dalla scuola, stanchi dall'allenamento, insomma arrivavano alle 8 che per loro era veramente difficile concentrarsi. Poi probabilmente non avevano neanche un loro metodo di studio e anche avere una persona all'inizio che li controllava non l'hanno vista di buon occhio. Invece poi hanno capito l'occasione che gli era stata adatta e si sono impegnati e molti di loro hanno recuperato le materie e hanno ottenuto dei buoni voti. Abbiamo potenziato in questi due anni un po' tutte le aree, a cominciare dall'area ad esempio della foresteria dove i nostri ragazzi che vengono da fuori stanno e vivono praticamente tutto il giorno, potenziandola con un tutor e psicologo che è il dottor Zarra, responsabile della foresteria con due tutor didattici che aiutano i ragazzi a fare i compiti e a studiare. Abbiamo migliorato il servizio di trasporto con il pullman che porta i ragazzi appunto dalla foresteria di quarto fino al centro sportivo di Asseminello. Abbiamo migliorato notevolmente l'area tecnica con professionisti, quali sono i nostri allenatori, i nostri aiutini allenatori, i nostri tecnici, preparatori atletici, tutti quelli che lavorano sul campo, tutti i professionisti esemplari che ci danno una mano ovviamente, danno una mano ai ragazzi a crescere, a crescere dal punto di vista tecnico ma anche a crescere dal punto di vista caratteriale, morale, la società vuole che ci siano delle regole ben precise che vanno seguite, che ci sia al primo posto l'aspetto educativo perché riteniamo che sia fondamentale nella crescita dei nostri calciatori e quindi i nostri allenatori insieme ai tutor riescono a dare questa linea e a migliorare i nostri ragazzi. Grazie.